Oggi vi presento una Range Rover davvero particolare ed esclusiva, Range Rover Sport in edizione limitata Stealth, completamente nera e con gli spettacolari cerchi da 22. Immatricolata nel 2020 ha percorso 160.000 km ed è stata sempre tagliandata presso il nostro service. L'ultimo tagliando è stato eseguito a giugno del 2023. Ha una dotazione a dir poco sontuosa, a partire dall'esterno dove notiamo i fari Matrix LED, il tetto panoramico apribile e i vetri oscurati. All'interno gli splendidi sedili in pelle con regolazioni elettriche sono anche riscaldabili. Il sistema infotainment completo include il display interattivo ed il doppio touchscreen centrale. Infine viaggia in sicurezza grazie al Drive Pro Pack con assistenza a mantenimento corsia e allerta a angolo cieco e anche grazie al sistema di telecamere a 360 gradi. Il prezzo? 49.950 euro. Io sono Valentina di Soluzione, contattami per maggiori informazioni e per prenotare una prova su strada.